Le coperte appese sullo stand di panni, biciclette una sopra l'altra, alcune con le gomme smontate, una distesa di bottiglie di alcol, la brandina all'aperto e una tenda a coprire un varco rotto, quasi fosse una porta, dentro una stanza con in terra un materasso, un po' dappertutto avanti di cibo, scarpe, giacconi e indumenti appesi alle sedie, quattro mura che si fanno casa per un senza tetto, ma anche degrado e insicurezza per i residenti della zona. Siamo a due passi da Barriera Roma, imboccata via Colombo, sulla sinistra si trova via Marcolini, strada cieca che porta verso la ferrovia, in fondo c'è uno spiazzo utilizzato come parcheggio, una recinzione in ferro delimita l'ampio cortile sulla destra, primo lembo del maxicomparto del Consorzio Agrario Terre Padane, 115.000 m2 che si spingono fino a via Pennazzi, in attesa della riqualificazione è diventata un rifugio di emarginati e vagabondi, stranieri per lo più, qualcuno di loro racconta che a cui da tre mesi, prima era nell'ex mercato ortofrutticolo alla lupa, demolito nei mesi scorsi, qui in questo periodo sono in 7 o 8 a viverci, intorno a altri fabbricati più o meno fatiscenti sono adibiti allo stesso uso, tra i cittadini della zona c'è chi ha lanciato l'allarme e intanto il degrado e lo stato di abbandono che regnano nell'area dell'ex orto mercato di via Colombo hanno i giorni contati, se tutto andrà come previsto, tra due mesi dovrebbero infatti iniziare i lavori per la realizzazione del parcheggio, con una durata di circa cinque mesi, è quanto emerso nell'incontro operativo che si è tenuto ieri in municipio tra i progettisti e l'amministrazione comunale.